Il mare è in fase calante e quindi tutto sta ritornando alla normalità. Questa immensa pioggia con toni, lampi, fulmini ha fatto in modo di togliere il pulviscolo dall'aria e quindi da ora si riesce a vedere tutte le propaggini, per esempio la gorgona, ma addirittura si vedono le propaggini della Corsica sullo sfondo. Questo succede raramente, solo quando una pioggia violenta porta a mare tutto il pulviscolo e rimane tutta in piena pulizia e quindi si vede molto lontano. Qui si parla della Corsica di 150 miglia, più o meno. Si intravedono anche 3-4 colori sul mare, nel senso che si vedono colori variegati, perché? Perché sono quelli più vicini, con profondità minore e poi sono quelli vicini alla costa che ha rimosso anche quello che era un po' i fondali. Poi c'è un azzurro, un blu intenso, intenso, ancora un azzurro. Questo dà un significato di quelle che sono le profondità in alcune di queste posizioni, di questi posti. Stop!